Coinvolgere clienti e collaboratori, cioè comunicare e parlare con loro con empatia, e lo vedremo in pratica con questo video. E al termine di questo video vedremo la voce della vicinanza, la voce del sostegno per le persone, e vedremo quindi come coinvolgere le persone con cui stiamo parlando e interagendo. Immagina che tu stia parlando con una persona che ti sta raccontando che cosa le è successo ieri, e le è successo qualcosa di veramente spiacevole, al punto che poi, ancora oggi, sta cruciandosi per quello che le è accaduto. E immagina che questa persona, mentre ti sta raccontando, ad un certo punto non riesce a trattenere le lacrime. Le si spezza la voce e, durante il racconto, inizia a piangere. E continua a raccontare piangendo. Bene, a questo punto tu che cosa puoi fare? Se anche tu hai un coinvolgimento emotivo, per esempio se questa persona ti è particolarmente vicina, e se l'evento può avere un'influenza sulla tua stessa vita, ebbene è possibile che anche tu possa commuoverti o metterti a piangere. In questo caso non ci troviamo di fronte a empatia, ma più facilmente di fronte a simpatia, cioè provare la stessa emozione. In pratica, saresti contagiato o contagiata emotivamente. L'empatia invece è tutt'altro. Nella stessa situazione che ti ho appena descritto, immagina che invece la tua reazione sia altra, e cioè che tu comprenda l'emozione di questa persona, perché hai compreso bene la storia e il suo stato d'animo, e cerchi di starle vicino, semplicemente. Cerchi semplicemente di ascoltarla. Ecco, già questa è empatia. Quindi non mettermi nei panni degli altri, con il rischio peraltro di lasciarmi contagiare, ma mettermi dal punto di vista dell'altra persona. Un po' come se io mi spostassi fisicamente dal suo punto di vista, ma sono sempre io e non mi lascio contagiare. In questa situazione posso essere davvero d'aiuto alla persona. Ecco, oggi vediamo quindi come coinvolgere, come aiutare clienti e collaboratori, parlando e interagendo con loro, utilizzando due espressività che sono tra loro estreme, ma che sono entrambe indispensabili quando vogliamo aiutare e coinvolgere le persone. Oggi faccio una sperimentazione. Per fare questo, io ti faccio sempre un tutorial, vedremo due step in particolare, e te ne illustro uno alla volta, ma la sperimentazione consiste in questo. Io starò qui con te. Non ti chiederò di mettere in pausa il video, ma starò sempre con te. Se vuoi fare gli esercizi oggi, li puoi fare in diretta insieme a me. Oppure, se decidi di vedere il video e di fare successivamente gli esercizi, ebbene, ti consiglio di mettere tra i tuoi preferiti, magari in una tua personale playlist, questo video. Oggi te lo vedi e successivamente metterai in pratica, rivedendo il video, tutto ciò che ti spiego oggi. Cominciamo? Cominciamo allora con lo step numero uno. E se hai visto bene, è una persona che parla ad un bambino. E quindi immagina a questo punto che vuoi raccontare di te stesso o te stessa chi sei, che cosa fai nella vita, che cosa ti piace della vita. Io ti darò un minuto di tempo e io sarò qui presente con te durante questo minuto e starò zitto. Ti dirò semplicemente mancano dieci secondi, il che è un invito semplice per dirti chiudi, ma chiudi alla fine. E immagina di parlare ad un bambino che si trova lì davanti a te come nella figura e che dunque sta dormendo. E vuoi evitare di svegliarlo, vuoi che continui a dormire. E naturalmente devi assumere una postura, un atteggiamento, una voce che ti permetta di raccontare davvero chi sei, un po' come se volessi fartelo passare subliminalmente, ma senza svegliarlo e rispettando il suo riposo. Bene, io prendo il tempo, ti darò appunto un minuto e ti avvertirò quando mancheranno dieci secondi puoi farlo davanti a me. 3, 2, 1, vai! Mancano dieci secondi. e stop, fine dell'esercizio. Passiamo all'esercizio successivo. O meglio, siamo allo stesso step e adesso ti chiedo di fare la stessa cosa tenendo la stessa postura, lo stesso atteggiamento, ma rivolgiti a me, che sono qui ad ascoltarti. Abbiamo sempre questi dieci, uh, pardon, questo minuto d'orologio in cui interagisci con me con la stessa modalità. Se vuoi fare l'esercizio adesso, lo fai. Se invece vuoi conoscere il resto degli esercizi e delle attività da fare, puoi saltare al capitolo successivo. Ti consiglio di farlo adesso. Ti do sempre un minuto. Sei pronto? Sei pronta? 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, Mancano dieci secondi. E voilà! Eccoci qua. A questo punto ti chiedo come va. Questo punto è fondamentale. Dovresti fare una riflessione. E questa te la faccio fare liberamente. Come va? Bene o male? In che senso bene o male? Che cosa hai provato? Che cosa hai sentito? Che cosa hai sentito delle sonorità? Sei riuscito? Sei riuscita a mantenere la stessa postura, le stesse sonorità, la stessa espressività, ma anche le stesse parole che hai utilizzato immaginando di avere questo bambino. quando hai parlato con me, guardando me, ci sei riuscito, ci sei riuscita? Ebbene, segnatelo. Segnati queste osservazioni. Scrivile subito. Qui puoi mettere in pausa il video. Scrivile su un pezzo di carta, sul tuo diario. Oppure registra un vocale. Dille d'alta voce, perché nella mente i pensieri possono rimanere in uno stato confusionale e poco logico. Scrivere oppure registrare un vocale significa dare senso logico ai contenuti che stiamo mandando. Puoi anche scriverlo qua sotto nei commenti. Puoi scrivere step 1 ho provato, mi è successo questo, 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 eccetera, eccetera. Metti in pausa e ci vediamo fra un attimo con l'esercizio successivo. Step numero 2 ti chiedo di parlare a una folla. Vedi questo omino che sta parlando a una folla che sta là in fondo. Le righe davanti servono proprio per questo, per indicarti che le persone sono distanti e parlando a questa folla là in fondo farai lo stesso discorso che hai fatto prima. I stessi contenuti vanno benissimo. Questo disegno è stato tratto dal mio manuale di Public Speaking Pratico. È un disegno di Mattia Luigi Coppia che ringrazio anche. Ora, immagina davvero di trovarti davanti a queste persone. Deve arrivare la tua voce là in fondo ma ciò che devi evitare è di urlare anche perché rischieresti di farti male alle corde vocali. Fai in modo che la tua voce arrivi lontano, arrivi a quelle persone, quindi sostieni bene. Vedi anche esercizi che abbiamo fatto in altri video li puoi trovare qua per sostenere la tua voce grazie alla tua postura. Ti dico solo che puoi slanciare lo sguardo e la tua postura verso quelle persone che stanno laggiù. stesso contenuto di prima lo vediamo insieme e ti do sempre un minuto. Tu immagina quelle persone 3, 2, 1 vai! mancano 10 secondi, e voilà! Ora la domanda che ti pongo ovviamente è come va? Che cosa hai trovato di diverso rispetto a prima? come ti sei trovata rispetto a prima? Che differenze hai sentito nella tua postura, nella tua voce, nel tuo atteggiamento? E onestamente provo a pensare anche al lessico che è uscito. Ora ci sono due fattori in gioco, il primo l'avevi già fatto l'esercizio e l'avevi anche ripetuto. L'altro fattore è il fatto proprio che ti ho chiesto una postura completamente diversa. Direi praticamente opposta, uno la vicinanza con un bambino, l'altro invece la lontananza di una folla di persone. Bene, facciamo il secondo step del secondo step? Ti chiedo ancora una volta di farlo davanti a me, ora ti rivolgi a me utilizzando la stessa postura, quindi tutte quelle modalità espressive che hai utilizzato prima immaginando la folla che era lontana. E lo fai guardando a me e ti do ancora una volta un minuto. 3, 2, 1, vai. Grazie. Grazie. 7 secondi. E voilà. Ancora una volta ti chiedo come va, come ti sei sentito, come ti sei sentita. Io ti consiglio a questo punto di mettere in pausa il video perché io non ti servo più. Metti in pausa e poi ci rivediamo dopo e fai le tue considerazioni. Ancora una volta le puoi scrivere qui sotto nei commenti, quindi potresti indicare step 2. ho provato questo, questo, questo. Soprattutto nel confronto con lo step 1. Prenditi il tuo tempo, pausa il video, buon lavoro. Qual è l'obiettivo? Che cosa ci siamo posti davvero come obiettivo quando parliamo e interagiamo con le persone? Cioè noi vogliamo coinvolgere collaboratori, clienti, amici, familiari, le persone con cui stiamo parlando e interagendo. Qual è l'obiettivo? Ebbene abbiamo visto due voci, due posture, due gestualità, due gruppi espressivi, due famiglie espressive diametralmente opposte che sono entrambe importanti per interagire con le persone. Perciò all'inizio devo cercare una vicinanza con la persona, dopodiché devo cercare di sostenerla. Per sostenere la persona devo sostenere la mia espressività e per sostenerla devo mandare, devo mandare la mia voce, i miei contenuti, le mie idee quanto più lontano possibile e lo posso fare immaginando di fare questo. Perciò allenati ad esercitare queste due espressività opposte che puoi utilizzare all'interno dei tuoi discorsi e anche delle tue presentazioni a seconda delle circostanze. L'obiettivo infatti quando vogliamo davvero coinvolgere le persone fondamentalmente è aiutare le persone a risolvere problemi facendole sentire accudite e al sicuro. Accudite quindi un po' come il bambino al sicuro cioè ho una mia postura sicura e ti sto rassicurando grazie alla mia postura. Ci sono domande? Vuoi approfondire questi argomenti oppure altri che hanno a che fare con questo? Ebbene mi raccomando scrivile qui scrivile qua sotto nei commenti io girerò altri video già ne sto girando rispondendo alle domande delle persone. Ma vediamo adesso un riepilogo di tutto quanto abbiamo visto quindi la voce della vicinanza abbiamo visto la voce del sostegno che è quella che ci fa sentire apparentemente più lontani ma in realtà loro ci sentono chi ci ascolta ci sente più vicino e abbiamo visto quindi che tutto ciò può dare una maggiore comprensione cioè io comprendo la persona cioè sto veramente vicino alla persona e tutto ciò infine mi dà un forte senso di sicurezza. Lo dà a me perché quando parlo in questo modo mi dà senso di sicurezza e lo dà alla persona comprensione e sicurezza insieme bene ti ricordo di unirti al canale telegram dove ci sono le anticipazioni trovi qui sotto il link video che ancora devono uscire su youtube e li puoi vedere in anteprima le dirette ti comunico le dirette e una serie di interazioni di confronti molto molto interessanti e il canale sta crescendo e sono molto contento e iscriviti anche alla newsletter perché lì c'è il punto settimanale ci sono dei suggerimenti che do in più rispetto a quello che vedi qui nei video e iscriviti al mio canale se ancora non ti sei iscritto attiva la campanella a presto alla prossima volta buon divertimento ciao ciao